carissimi pace buona giornata di benedica oggi leggiamo il salmo 10 un salmo molto interessante perché sicuramente descrive i sentimenti che delle volte caratterizzano l'animo nostro nel vedere l'avanzata del male infatti il salmo si apre con la descrizione di una triste realtà che il salmista viveva quotidianamente e infatti in qualsiasi direzione lui volgeva lo sguardo notava una sola cosa il peccato che si manifestava sicuramente in forme diverse corruzione disonestà avidità falsità invidia odio violenza ma che sempre peccato era e anche noi purtroppo assistiamo a questo tipo di situazione e viviamo delle volte con la paura che da un momento all'altro possiamo essere vittime di qualche triste esperienza o subire magari le prepotenze di coloro che seminano paura e dolore e tutto questo non solo è ingiusto ma delle volte ci sembra assurdo alla luce del fatto che pensiamo dio dovrebbe intervenire e invece sembra starsene in disparte sembra quasi non accorgersi di quello che sta accadendo e quello che il salmista afferma in questo salmo è quello che asaf dichiara nel salmo 73 anche lui vede il peccato avanzare e si chiede perché signore non intervieni e lo stesso che si chiederà abbacucco il libro di questo profeta infatti inizia con un lamento elevato a dio signore perché signore fino a quando signore non comprendo questo tuo silenzio ma poi alla fine abbacucco asaf e anche l'autore del salmo 10 si fermano riflettono considerano abbacucco dirà sono salito al mio posto riguardia mi sono disposto ad ascoltare attentamente quello che il signore aveva da dirmi e proprio lì arriva la svolta arriva la svolta perché il salmista rifletterà e considererà la fine dei malfattori e si renderà conto che un giudizio c'è che un giudizio si manifesterà e che quindi vale la pena rimanere fedeli a dio abbacucco stesso avrà una visione del giudizio di dio e proprio per questo concluderà il libro con un canto di lode anche oltre che di preghiera e anche qui il salmista vediamo che conclude il salmo proprio con la certezza del fatto che dio giudicherà il peccato e giudicherà coloro che non si ravvederanno dal peccato e signore ci aiuti ci aiuti ad avere questa visione spirituale a prendere la stessa decisione che il salmista prese quanto a me il mio bene e di accostarmi a dio perché tu mi condurrai con il tuo consiglio e poi mi riceverai nella gloria sì dio farà venire ogni opera in giudizio tutto quello che oggi è nascosto sia in bene che in male è destinato un giorno a venire alla luce e questo poi in fin dei conti è la conclusione a cui arrivano tutti gli uomini di dio compreso l'ecclesiaste che attraversano dei momenti di smarrimento e se tu questa mattina ti senti smarrito perché forse non comprendi il motivo del mancato intervento di dio voglio dire a te quello che il salmista diceva continuiamo a confidare nel signore non lasciamoci sgomentare da tutto questo ricordiamoci che per ogni cosa di ha stabilito un giorno in cui giudicherà e giudicherà secondo la sua giustizia che è perfetta e infatti il libro o meglio l'epistola agli ebrei dichiara al capitolo 9 al verso 27 che è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola dopodiché viene il giudizio sì il signore giudicherà e fino a quando egli non lo farà noi non possiamo far altro che aspettare quel giorno rimanendo fermi nella nostra fede pregando per coloro che compiono il male affinché si possano ravvedere e impegnandoci a servire ad amare dio con tutto il cuore senza lasciarci corrompere dalla malvagità che ci circonda la conclusione di questo salmo ci ricorda ancora una volta un principio biblico cioè che dio resiste ai superbi ma fa grazie agli uomini esaudisce i loro desideri purché essi non siano rivolte a cose vane ma a scopi spirituali e non si dimentica mai di loro anzi si prende cure giorno dopo giorno preservandoli dal malvagio e anche quando il malvagio sembra avere la meglio egli ha un piano che permetterà a lui di trarre gloria da quanto sta avvenendo nella nostra vita l'ho detto altre volte ma è una storia sotto questo aspetto o molto illustrativa vale a dire mardocheo che si ritrova quasi ad essere sopraffatto dall'uomo orgoglioso e malvagio che era aman ma che alla fine avrà la vittoria lui insieme al popolo grazie a un intervento straordinario di dio infatti il re assuero era stato da aman liberato in una circostanza particolare il re assuero sembrava aver dimenticato quello che era successo fino a quando una notte per caso ma quel per caso e tra virgolette non riusciva a prendere sonno e così andò a leggere il libro delle cronache ci andò a vedere quello che era accaduto durante il suo regno e nel leggerlo vide quello che mardocheo aveva fatto e si chiese ma o mai ho ringraziato questo uomo mai fatto qualcosa in favore di questo uomo e quando chiese questo tutti gli dissero no signore no mio re nessun ringraziamento nessun onore è stato resa a quest'uomo e allora assuero si alzò chiamò aman gli disse cosa bisognava fare per onorare una persona aman pensando che il re si riferisse a lui parlò di cose straordinarie e allora avverrà che assuero dirà ad aman bene questo è quello che dovrai fare a mardocheo e mardocheo che il giorno dopo teoricamente doveva essere distrutto insieme al popolo di israele ebbene mardocheo divenne l'uomo che aman fu costretto ad onorare e di lì a poco nama stesso o venne giudicato da assuero per i suoi cattivi sentimenti grazie all'intervento di ester la regina che si trovava presso la corte il popolo di israele fu salvo sì dio sa sempre come intervenire ed operare perciò non non impauriamoci non lasciamoci intimorire dal dalla prosperità dei malvagi rimaniamo fedeli al signore perché alla fine la vittoria sarà di coloro che amano dio e lo onorano con la loro vita che dio ci accompagni ancora oggi dio ci benedica insieme grazie a tutti Grazie a tutti.